Il giubileo straordinario della misericordia del 2015-2016 sarà un giubileo che per le opere limitatamente alle questioni relative alla mobilità, perché di questo si tratta, con soldi, anche qui un po' improprio perché dice che i soldi sono del comune, ma lo Stato in qualche modo ha differito il rientro dal debito, quindi quelle sono sempre un po' quelle strane interpretazioni, i soldi sono miei, è come quello che è debitore e dice ti faccio utilizzare ancora il tuo debito, dei soldi che mi devi restituire, i soldi sono del debitore o sono del creditore, è una strana, una bella battaglia.